Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presso un mio aiuto. Credo in Dio. Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesi agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Veni, Sante Spiritus, veni per Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che rivolgiamo a voi, Regina della Pace, prega per noi. Primo mistero gaudioso, l'annunzio dell'Angelo Gabriele alla Vergine Maria, dal Vangelo secondo Luca. Entrando da lei, disse, Ti saluto, piena di grazia. Il Signore è con te. A queste parole, ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'Angelo le disse, Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse, Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'Angelo partì da lei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che rivolgiamo a voi. Regina della pace, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu. Secondo mistero gaudioso La visita di Maria a Elisabetta Dal Vangelo secondo Luca Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù Giuseppe Maria Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria concepita senza peccato pregate per noi che rivolgiamo a voi Regina della pace prega per noi Ave Maria Grazia plena Nominus Dei Benedita Tu Terzo mistero gaudioso La nascita di Gesù nella povertà di Betlemme Dal Vangelo secondo Luca Mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto Diede alla luce il suo figlio primogenito lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male amén ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte panne ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amén ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che rivolgiamo a voi. Regina della pace, prega per noi. Quarto mistero gaudioso La presentazione di Gesù al Tempio Dal Vangelo secondo Luca A Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio che aspettava il conforto di Israele. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Anche a te una spada trafiggerà l'anima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che rivolgiamo a voi. Regina della pace, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tu. Quinto mistero gaudioso Lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio Dal Vangelo secondo Luca Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo Ed egli rispose, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Padre nostro che se nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti Come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli, Amen L'ho dato sempre sia Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria Gesù mio Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia O Maria concepita senza peccato Pregate per noi che rivolgiamo a voi Regina della pace Prega per noi Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve A te ricorriamo e sui figli di Eva A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime Or su dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi E mostraci, dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno O clemente, o pia, o dolce vergine, Maria